Ciao ragazzi, benvenuti! Oggi facciamo un video, un altro video di Gormiti! Un video di Gormiti, che cosa ci sarà dentro quella scatola? Lo scopriamo subito, via quella sigla! Eccoci con noi ragazzi e apriamo la scatola! Apriamo la scatola, cosa ci sarà dentro? No, lo sappiamo, dai apri, 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 apri Si sono, è una nuova collezione che troverete in edicola o nei negozi di giocattoli delle minifigure dei nuovi Gormiti, da circa 5 cm, quindi così, più o meno Ce ne sono 15 in confezione, li apriamo tutti! Più un altro che potete vedere qui, cioè 16 però con quello Vabbè ma quello è quello dell'unbox della cosa precedente che abbiamo fatto vedere i Gormiti Facciamo questo! Fai, sguota le tutte proprio, no? Ok E a questo punto unboxiamo, vediamo cosa c'è dentro ogni bustina Queste le leviamo da mezzo, che sono troppe Si, sono, sono anche 14 bustine Perché in totale sono 15 abbiamo detto 15, meno 1, 14 Che bravo, via, a terza elementare serve qualcosa allora Dai! Apriamo, questo è buono in prima, lo mettiamo Ah vabbè Gli è tanti anni Eccola carta! All'interno lo troviamo, una card Ho visto il personaggio Aspetta, una card con un codice per, un codice univoco Quindi ogni personaggio, ogni bustina ha un suo codice per poter essere usato all'interno dell'app dei Gormiti E questo, vedi? E questo ha Kilos del valore 7 Perché si può giocare, si possono fare le battaglie tra Gormiti Questo è il booklet Eccoli qua, con i vari personaggi che si possono trovare E la prima Lo implasticano Lo implasticano Eh, così almeno non lo, non lo tasti Vai Che figo che è Eccolo Oh ma sono belli però, eh Questo è curato, mentre quello è che era solo curato È proprio bello, eh Sì Dai che dopo lo facciamo vedere per bene Uno, questo si chiama, abbiamo detto Achilos Via Seconda bustina Sì, se avete sentito un nome come Miro è perché ce l'abbiamo un gatto Un altro gatto Un altro gatto Lord Helios Valore 9 Uh, super potente Ok Booklet di nuovo Grazie Bene, questi li leviamo i booklet Bello questo, ragazzi, c'è il mantello dietro Il mantello è di fare appoggio dietro Bello, eh Sì Carta 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 Ok Ma per questo è che lo dico bene Questo Typhon Typhon Colore 7 Eccolo Ma che c'è, sono super colorati, molto belli sono Sì Ci piacciono molto, mi piacciono molto Passami, quello Grazie Proprio, proprio belli Adesso ve lo apro così che non avete visto abbastanza la schede dietro Ecco il personaggio Dammi la Il personaggio My card Oh, mamma, questo è meraviglioso Sì Che meraviglia Aspetta, eccolo qua Guarda che bellezza Ho visto il valore È proprio bello questo Mi piace moltissimo È il valore più basso che abbiamo trovato Vabbè, ci interessano Il valore 6 si chiama Hirok Hirok Vabbè È bello comunque Molto bello Passiamo in un'altra Bukrek Carca Valore Oh, mamma, ma che grande Lord Triton Assomiglio molto a quello che abbiamo là C'è la stessa cosa Bello Bello Ma sono tutti bellissimi Devo dire la verità Sì, sono tutti belli Non me li aspettavo così belli, lo sai? Sono io Ah, non le piacevo la sorpresa Sì, non me li aspettavo nemmeno colorati Cioè, me li aspettavo direttamente tutti in colore Ah, come? Tu scherzi un colore già Bello questo Supervalore Lord Titano Non c'è ma dove c'è? 9 9, anche questo Non c'è ma come è solo il colore del colore del colore Ecco il personaggio Eccolo qui Eccolo qui Lo mettiamo di là Molto bello Sì Mi scoglio, mi scoglio Questo sei Bellissimo Koga Bello Molto Mamma mia Sono proprio belli Sono bellissimi Guarda che roba Mamma mia Questo è morto Povero È caduto di testa, poverino Non ce l'ha fatta È bello Mettilo via È pure un maschio Non lo so, c'è scritto Koga Potrebbe essere anche una femmina Che ne sappiamo Ecco fatto No, vabbè È proprio destinato questo Povero Koga Eppure non è il conti di vero sei E vabbè D'altronde Ma smetti di buttare le cose a casaccio per casa Che ne ho dovuto buca per te Dai, dobbiamo raccogliere noi No Grad Wow Ecco Oh mamma che bello Fa guigliere Ma sono bellissimi Sì Poi Oh ma quanti sono? Finisce più Tutti diversi poi E certo tutti diversi Perché certo Lord Voidus Voidus Sì Mettiamo qua Eccoli E poi bisogna 9 Bellissimo E non me l'hai fatto vedere Eccolo Eccolo qua Bellissimo Wow È super grande Che fai il più grande? Io sei uno dei più grandi Tieni Sì E poi le buschine Le più cicciotte Sono quelle con i personaggi più magri Ma che senso? Vabbè Questa è una teoria tutta tua comunque Dai Forza C'è un muscelino che gira per casa Ci dà un po' fastidio Valore 7 Zephyr Valore 7 Ragazzi Ragazzi Hai raggi E vuola questo Fammi farlo vedere dietro Vediamo un po' Ah sì È vero C'è anche la posa un po' particolare Vedi un po' Tutta di lato Allora mettilo dietro lì Livello 7 Molto carino anche lui Questo così Veramente non ce n'è uno che non mi piace Questo carino avanti Perché è troppo potente È troppo pesante Anche a me fino adesso Mi ce n'è uno che non mi piace Vero? Hydros Hydros Chiamalo come vuoi Pure questo Per cari che non si riesce a chiedere a fuori Voglio vedere se ce n'è uno brutto Non credo sai No veramente Poi sono 4 scarini Sono rimaste 4 le bustine Guarda che scarina Putta quel coso che ho fatto Veramente carino Attendo va Va Vai Ci penso io Falca X-X-A-Thor Mamma mia Bellissimo Che nomi strani 7 Eccolo Eccolo qua È bellissimo Eh sì Bello proprio Guarda un po' C'ha una cosa con una specie di faccia Sopra Bellissimo Questa è una spada È un forcone Un forcone Vabbè quello che Assomiglia anche Sì sì però è bello Un altro livello 7 Carac Carac No sono tutti belli Perché questo è bello È indeciso ma sono tutti belli Sì Ce ne so di maschidura Poi è questione dei gusti Quello che ti piace più di meno Però sono tutti belli Questo è un altro Poi abbiamo finito Vai Lui è livello 9 È un potentissimo Perché i livelli 9 Sono tutti lord Ci hai fatto caso? Lord Carry On Ma Lord Carry On Non è quello Sì è quello È versione oro Figo È versione oro Wow Eh sì È lui colorato È lui colorato Infatti è più bello Bello Stanno pure sul davanti Che la bustina Se guardate È come se fosse il personaggio Principale È il personaggio Principale Non lo so Non lo so Se è il personaggio Principale Non lo so 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 Vulcan Bellissimo Vulcan Sbaglio non ci sono Livelli 8 No Oh che figo questo Sì Guarda che meraviglia Non lo abbiamo trovato Livelli 8 Sono 6, 7, 9 6, 7, 9 6, 7, 9 Questi sono tutti e 15 I gormiti I gormiti che abbiamo trovato Sono uno più bello dell'altro Il mio preferito è questo È vero Eccoci Eccoci qua Adesso vediamo come si può giocare con questi Perché non è che ci sono Il pupazzetto è bellissimo Però ci si può anche giocare Come ci si gioca? Praticamente ogni Minifigure Ha sotto Un numero stampigliato Per esempio questo Vabbè non si vede Ha un numero piccolino Qui che ho scritto 1 È un numero volgare Ah vabbè dai E qui c'è una carta Col numero 7 Vanno sommati I due numeri 7, 1, 8 Io scelgo questo Tu ne scegli un altro Chi fa il cutteggio più alto Vince Giusto? Sì Ce ne abbiamo 7 per 1 Sono 14 17 per 1 Uno lo eliminiamo Lo eliminiamo per da questo Via Questo non lo usiamo Questo qui non lo usiamo E basta Ok? Ok Senza Un uno vale l'altro Scegliamo Uno per uno Io le scelgo 7 E tu altri 7 Vai inizia tu a scegliere Ok Ok Io mi ho preferito Ok Io prendo Anche l'altro Vai 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 Dai 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 veloce Non possiamo Stare due ore Questo Forza Io riprendo questo Vai Io mi prendo questo Io mi prendo questo E sto prendendo tutti quelli con il numero 7 Sto proprio fesso però Ma scusami E ti cambio Eh Potrei prendere qualche lord Però vai Non hai detto che il numero Perché i numeri sotto il piede Sono casuali Mi prendo me anche lord Questo non voglio io Io voglio Questo è stato massacrato Ma prendiamo questo vai Io mi prendo quello Massacrato Dai Mi prendo questo Io sto a 6 Quindi uno 2 Uno io Quello vuoi Quello questo Quello questo Quello questo Quello questo Quello questo O questo Ah Questo Guarda io che ho ordinato Guarda tu Perché da noi si dice Peciottone Adesso facciamo la gara Praticamente a turno A caso Tu ne scelgo uno Io ne scelgo Un altro Chi rimane con più Gormiti vivi Vince Sì Pronto Con chi inizi tu Inizio voi Mamma mia Che disatto Questo è destinato Questo è proprio Una cosa indecente E mi schiengata Di morire Vabbè dai un po' Che con Quello lord Quello E io prendo Ma io non c'ho manco Un lord Ce n'ho uno Ce lo tengo per dopo Questo Il mio ha 7 Più 1 8 Come quello Già c'è 9 9 9 Più 9 Più 1 10 Quindi hai vinto tu Questo viene eliminato Così lo mettiamo cappottato per terra Ecco qua Si vede E io ho vinto Vabbè lo metto Lo levo dalla scena Via Tu hai vinto con questo Sì Poi Una tera per te Te lo cerco io Questo 7 Più 5 12 12 Tu Mi manca Mi manca la carta Questo Non lo so Non lo so Andrò è finita La carta Questa Eccola Sarà questo Ah si Vai Prendi quello Sì Prendi questo 9 Più Sì 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 è lui 9 Più 8 Ma vabbè 17 Ma vabbè Ma 2 a 0 Per te Ma è uno scandalo Vai avanti Ma sono chiesti tutti Gorm Ma infatti non ho capito Vai avanti Tutti Lord No Gorm No no Vai chi scegli Questo E io prendo questo 9 Più 7 16 Io 7 Più 5 12 Ho vinto io Finalmente No Una vittoria Via Via 2 a 1 Per te Scelgo io Questo qui 6 triste Con un 3 Ancor più triste 9 Tu Io 6 Più 8 Meno male 2 a 2 Questo è proprio Questo È destinato a Stratta Purtroppo Poverino Niente Non ce la fa Oh 2 a 2 È troppo bravo Tocca a te Perché Vai Io scelgo questo Vai 6 Più 5 6 6 Più 6 12 No Ma fate in vantaggio Come faresti Tu Vai Scelgo io Questi Questo qua 3 a 2 Tu Che è questo 6 Più 7 Più 2 6 Più 2 6 Più 2 uuuu ho vinto eh ma io ho vinto 4 a 2 e vabbè comunque bisogna fare 2 giusto 7 più 1 a 8 9 più 7 ho vinto 2 16 però nel complesso ho vinto io 4 a 3 ahahah vabbè questo è uno dei modi di giocare no? si poi volendo possiamo anche continuare lo scontro si come ci farà noi poi si può giocare come vuoi ma sono proprio belli dai che figata dove si trovano abbiamo detto anche questo c'è il numero sotto 7 morto ahahahahah ancora lui questo qui è caduto un'altra volta ma poverello lo mettiamo in commentina del video lo so disgraziato ahahah 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 ahahahahah dai basta vabbè sono veramente veramente figli che succede? ahahahahah mamma mia questo è pazzo scusatemi vabbè larenzo saluta i ragazzi i bambini e tutti gli adulti e gli umani quantiasi anche gli abitanti dell'isola di Gorm ahahah comunque li trovate nei tigoli e nelle cozze di giocattoli fighi fighissimi quanto costano? non lo sappiamo lo scopriremo perchè sono usciti adesso sto piangendo per il video che no farla finita brutta ciao ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale ciao 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 ciao